Servirebbe una vera discussione sul modello di sviluppo, sulle priorità infrastrutturali, sulla pianificazione di interventi di settore, sulla riorganizzazione di alcuni servizi, a partire dalla sanità e dai trasporti. Azioni che non si intravedono del DEFRE, è l'aspra critica dei sindacati CGL e Cisle Will nei confronti dei contenuti del documento di economia e finanza regionale. Intanto, mentre nella prima commissione del Consiglio regionale è iniziata l'analisi del bilancio, che dovrà essere approvato in aula nella sessione che si aprirà il prossimo 21 luglio, dai responsabili regionali della triplice, coinvolti nella fase di ascolto delle proposte, contestato, oltre al merito, anche il metodo utilizzato. Questo perché, alla luce delle restrizioni anticontagio, i rappresentanti sindacali avrebbero voluto un confronto almeno online in prima commissione, non c'è stato. Calo demografico in discesa apparentemente inarrestabile del prodotto interno lordo regionale e dell'occupazione, con l'esplosione delle ore di cassa integrazione, le drammatiche criticità sul tavolo. In proposito, dalla CGL, le parole del segretario regionale Paolo De Socio. Noi nella lettera scritta al presidente della prima commissione, che diciamo con questa modalità ci aveva invitato a fare osservazioni, abbiamo scritto che chiaramente per noi la priorità resta lavoro e sviluppo, facciamo sindacato e quindi ci prendiamo quella che è la nostra parte di rappresentanza, siamo portatori di interessi dei lavoratori e portatori di interessi diffusi. Chiaramente siamo attenti osservatori di quello che succede all'interno del territorio, abbiamo anche rimesso in discussione alcuni aspetti che devono riguardare le competenze dello Stato rispetto alle regioni. Noi pensiamo che forze regioni come queste da sole su alcuni temi fondamentali non ce la possono fare, trasporto, istruzione, infrastrutture, sanità. Ecco, io credo che questa ennesima crisi abbia fatto esplodere dei momenti veramente di inadeguatezza dei territori ad affrontare queste cose all'interno della programmazione complessiva che riguarda anche il bilancio delle risorse triennali che competono ad una regione, deve essere fatto un discorso complessivo che presuppone una volontà di confronto vero con quelli che poi devono vivere questo territorio, rappresentare i lavoratori, rappresentare le imprese, quelle che già ci sono e quelle che dovrebbero arrivare.